Questo è il bello di creare qualcosa, lo facciamo ovunque, in macchina, in studio, sui navigli, poi con tutti i video che ti guardi succede che i giga finiscono. E poi mi dite sempre passa il cellulare bro che tu c'hai giga, io guarda ho Shaker Mix, te la fai come ti serve, la cambi quando vuoi, zero sprechi, top. Spacca vero?